Il gran ballo delle elezioni amministrative e oggi e domani la presentazione dei candidati in 75 comuni tra i centri oltre i 15.000 abitanti si andrà alle urne ad Acri, Palmi e Paola. Amministrative a Catanzaro, un esercito di candidati, occhi puntati sul capoluogo di regione dove si prevedono più di 20 liste. Spicca il dato politico della divisione del centro-destra in tre tronconi. Intanto Mimmo Tallini anticipa tutti e presenta la lista di Noe con l'Italia. Indagine sul gradimento positivo, il debutto di Roberto Occhiuto. Nella rilevazione di SVG il presidente calabrese registra un apprezzamento del 45%, raddoppiata la percentuale più alta dell'ultimo decennio. Catanzaro, la scorta civica per Nicola Gratteri. Siamo qui per quello che ha fatto e sta facendo. In piazza Matteotti centinaia di persone inneggiano solidarietà al procuratore dopo la recente scoperta di un progetto di attentato. Nuovo appuntamento con l'altro Corriere Tg, ben ritrovati dalla redazione da Fabio Benincasa. L'apertura dedicata alla politica, il gran ballo delle amministrative. Titola così oggi il Corriere della Calabria, il riferimento alle elezioni comunali con oggi e domani. La presentazione dei candidati in 75 comuni calabresi chiamati al voto. Occhi puntati ovviamente sul capoluogo, ma di questo avremo modo di parlarne nel prossimo servizio. Intanto tra i centri con oltre 15 mila abitanti si andrà alle urne ad Acri, Palmi. E Paola, il resoconto nel nostro servizio. Il deposito di liste e candidature è previsto per oggi dalle ore 8 alle ore 20 e domani dalle ore 8 alle ore 12. Si tratta di un momento dal duplice significato. Per un verso chiude mesi di trattative conciliaboli ed in qualche caso colpi di scena. Per l'altro dal via con il crisma dell'ufficialità. A settimane nel corso delle quali ciascuno dei candidati, ma anche le soluzioni politiche, si sottopongono al giudizio ultimo e finale degli elettori. Il 12 giugno prossimo in Calabria sono chiamati al voto 75 comuni. Il comune più importante e chiamato al voto è Catanzaro, unico capoluogo di provincia in cui si andrà alle urne. Seguono Acri, Palmi e Paola. Catanzaro e questi tre comuni sono gli unici che potrebbero richiedere il turno di ballottaggio previsto per il 26 giugno. Tra i centri più popolosi in cui si voterà anche a Mantea, Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Belvedere Marittimo, Pizzo e Soverato. Il comune più piccolo è quello di Staiti, in provincia di Reggio Calabria, con appena 279 abitanti. E a Catanzaro, come dicevamo, è bagarre per quanto riguarda i candidati a sindaco. Sappiamo delle fibrillazioni nei due grandi poli, centrosinistra e centrodestra, con l'ultimo nome, quello di Vanda Ferro, la parlamentare di Fratelli d'Italia che è scesa in campo in contrasto con parte del centrodestra che invece ha deciso di sposare la causa di Valerio Donato. Dall'altra parte c'è il centrosinistra con Fiorita, ma altri candidati che ovviamente conosceremo meglio nel prossimo servizio. Cerchiamo di costruire il mosaico, ricostruire il mosaico dei candidati a Catanzaro, dove, ve lo diciamo, c'era anche in campo un vero e proprio esercito di candidati aspiranti. Consiglieri comunali Ancora poche ore per l'intricata vicenda politica, consumatasi negli ultimi mesi a Catanzaro sarà scritta l'ultima parola. Quella definitiva ed inappellabile sarà invece espressa dagli elettori tra appena qualche settimana. Il capologo di regione, anche se occorrerà attendere domani a mezzogiorno per esserne del tutto certi, vede ai blocchi di partenza sei candidati a sindaco. Nino Campo, Francesco Di Lieto, Valerio Donato, Vandaferro, Nicola Fiorita e Antonello Tallerico. Per le due principali coalizioni in corsa il percorso non è stato del tutto semplice, anche se nel caso del centro-sinistra la soluzione Fiorita è giunta anzi tempo auspice il cambio alla guida regionale del Partito Democratico, il ritiro dell'avvocato Casalinuovo, la migrazione di Valerio Donato verso il centro-destra. E' invece proprio nel centro-destra che la soluzione, lungi dall'essere unitaria, ha generato ben tre diverse opzioni. La prima è quella di Valerio Donato, con lui Lega e Forza Italia, anche se sulla scheda elettorale i cittadini non troveranno i simboli ufficiali. Dieci, le liste complessive. Dall'universo azzurro proviene anche Antonello Tallerico, primo dei non eletti della lista di Forza Italia alla regione. Con lui sono schierati pezzi di centro-destra. Ed infine la questione più spinosa, che riguarda Catanzaro, ma con riflessi politici regionali. Fratelli d'Italia ha infatti scelto di schierare la coordinatrice regionale Vandaferro. Con la deputata ed esponente più in vista dei meluniani in Calabria si è schierato Coraggio Italia, con l'endorsement senza sé e senza ma del sindaco uscente Sergio Abramo. Proprio Abramo è il convitato di pietra di ogni discussione. Il voto del 12 giugno chiude infatti una lunghissima parentesi amministrativa, circa un ventennio alla guida della città, dal 1997 ad oggi. Infine, l'ultimo e significativo numero saranno 20 le liste complessivamente schierate. Significa un vero e proprio esercito di 750 candidati. In pratica, un candidato ogni 118 abitanti. Parte bene il governatore Occhiuto per quanto riguarda i sondaggi. L'indice di gradimento con la rilevazione di SVG, che premia l'apprezzamento nei confronti del governatore calabrese con un 45%, raddoppia Occhiuto la percentuale più alta raggiunta nell'ultimo decennio. Anche quest'anno, SVG ha rilevato il gradimento dei cittadini verso i rispettivi presidenti delle regioni. Il dato, che si pone più in evidenza, è il peggioramento dei giudizi nei confronti di gran parte dei governatori. Il calo generalizzato è principalmente dovuto al fatto che, nei due anni segnati dalla pandemia, le opinioni dei cittadini su quasi tutti i rappresentanti delle istituzioni erano migliorate sensibilmente in quanto concentrate sugli aspetti legati all'emergenza. In questo periodo, la questione Covid è diventata meno rilevante e quindi le valutazioni tornano a basarsi su una molteplicità di fattori. Zai e Bonaccini si confermano ai primi due posti, con il presidente Emiliano Romagnolo vicinissimo al vertice. Positivo il debutto per Roberto Occhiuto, soprattutto in considerazione del fatto che nella sua regione, la Calabria, in passato i dati dei presidenti erano quasi sempre piuttosto bassi. Il gradimento espresso nei confronti del governatore calabrese ad aprile 2022 si attesta al 45%, confermando il dato dell'anno precedente. Numeri positivi se si considera che in sole tre regioni, Friuli, Lombardia e Lazio, il dato positivo rispetto alla precedente annualità è negativo in tutte le altre. Occhiuto è al sesto posto nella classifica generale espressa in base alle percentuali raccolte da SVG. Interessante la serie storica offerta dall'Agenzia, che dimostra come la percentuale odierna sia la più alta dagli anni di scopelliti governatore ad oggi. Il 2013-2014 si è infatti chiuso con percentuali di gradimento del 12,7%, salite tra il 17 e il 19 con Oliverio. Occhiuto ha raddoppiato in questo primo anno la percentuale più alta registrata negli ultimi dieci anni. Il governatore Occhiuto però in questi giorni si occupa soprattutto dei tanti nodi da sciogliere che riguardano la nostra regione, dalla sanità fino anche alla mobilità, al rilancio del turismo. In questo senso gli scali aeroportuali calabresi diventano e devono diventare necessariamente attrattori turistici, ai quali però vanno affiancati dei servizi. E' questa la mission sostanzialmente della SACA, la società che gestisce gli aeroporti calabresi che, come sapete, ve lo abbiamo raccontato ieri, ha un nuovo amministratore unico, Marco Franchini. Ma quali sono gli obiettivi e soprattutto come la regione intende ricostruire il settore turistico passando dagli aeroporti calabresi? Lo scopriamo insieme. Un manager di esperienza e di grande qualità scelto per le sue competenze, per il lavoro svolto egregiamente presso l'aeroporto di Catania, e il quarto scalo d'Italia, per lo straordinario processo di riorganizzazione della rete aeroportuale pugliese. La SACA ha bisogno di gente dinamica e propositiva. Così il governatore della Calabria, Roberto Chiuto, ha commentato la nomine di Marco Franchini, nuovo amministratore unico di SACA, la società aeroportuale calabrese. Gli aeroporti di Crotone, la Mezzia Terme e il Reggio Calabria rappresentano una grande opportunità per la regione, per occhiuto, possono e devono trasformarsi in attrattori di turisti e investimenti. Per migliorare l'offerta, però, è necessario garantire servizi, ma anche ammodernare e migliorare gli scali, aumentare notevolmente le rotte nazionali ed internazionali. Franchini, nominato amministratore unico nel pomeriggio del 12 maggio, rappresenta una scelta che è insieme, fine di un vecchio percorso e inizio di una nuova fase, partita con l'acquisizione da parte della regione, attraverso Fincalabra, delle quote sociali della SACAL. L'arrivo di Franchini rappresenta il primo passo del nuovo percorso. Nelle prossime settimane, il rinnovo del resto del Consiglio di amministrazione. Questa mattina a Catanzaro, centinaia di persone si sono ritrovate per esprimere massima solidarietà al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che come sapete nelle scorse settimane era stato destinatario di un progetto di attentato. I servizi segreti esteri avevano intercettato l'intento criminale e criminoso, un intento sventato, ma è ovvio, è chiaro ed evidente che il lavoro della procura di Catanzaro preoccupa e non poco la criminalità organizzata calabrese. E allora donne e uomini, cittadini, associazioni, sono scesi in piazza per urlare il proprio sostegno al procuratore. Gratteri non è solo, siamo qui per quello che ha fatto e per quello che sta facendo, siamo orgogliosi di averlo e il coro che si è levato stamane da piazza Matteotti a Catanzaro è rivolto verso la procura del capoluogo calabrese. Voci che inneggiano alla solidarietà nei confronti del procuratore della DDA di Catanzaro finito nuovamente nel mirino di un possibile attentato organizzato da gruppi criminali d'oltreoceano e che avevano già chiesto il benestare delle cosche dell'Andrangheta calabrese. Dalla piazza e dalle strade del centro della città, capoluogo di regione, una scorta civica al procuratore, quella invocata negli ultimi giorni da cittadini e associazioni ma anche dalla magistratura. Qualche centinaio di persone, tra cui il sindaco di Crotone, candidati a sindaco di Catanzaro ma anche il testimone di giustizia Rocco Mangiardi e Don Pino De Masi. È giusto che qua ci siano persone che politicamente la pensino in maniera diversissima ma è altrettanto giusto che si esprima solidarietà nei confronti di un magistrato serio e scrupoloso in coerenza con alcuni valori, quegli stessi valori che per come dicono Gratteri, Di Matteo e tanti e tanti altri vedono nella prossima riforma cartabia un ulteriore indebolimento dell'indipendenza e dell'autonomia che per Costituzione deve essere garantita alla magistratura qualora si voglia una magistratura libera dal potere politica e non serva dello stesso. Questo sitino si doveva tenere a mio avviso davanti all'aula del tribunale, davanti all'aula del tribunale all'aula bunker perché quello è il posto ideale ed è il posto anche da dove escono le confische dove gli uomini entrano soppressi ed escono uomini liberi e dignitosi. Io sono qui e anche negli altri eventi sono sempre venuta perché ritengo un obbligo nei confronti del nostro procuratore Gratteri, quindi dobbiamo fare scorta civica e dobbiamo sostenerlo e come dicevo prima basta commemorazioni perché ora siamo stanchi, lo Stato deve fare il suo lavoro lo Stato in questo caso siamo anche noi e quindi noi tutti dobbiamo fare il nostro lavoro. Il procuratore Gratteri e gli altri magistrati della procura di Catanzaro si legge in una nota ringraziano per il sostegno manifestato oggi davanti il Palazzo di Giustizia, lo consideriamo si legge un invito a fare di più per contrastare un fenomeno come quello dell'andrangheta che oggi rappresenta più che mai una minaccia globale. Per combattere l'andrangheta e le altre forme di criminalità mafiosa si legge ancora nella nota c'è bisogno del contributo di tutti, di chi non ha più voglia di abbassare la testa, di chi sogna una Calabria libera dal bisogno e dalla paura. E a proposito di attestati di stima nei confronti dell'operato della giustizia a Parghelia nel Vibonese in località La Grazia sarà intitolata una piazza, un viale al giudice Antonino Scopelliti. Nella cittadina della costa degli dei si è svolto stamane un convegno sulla legalità e ovviamente noi c'eravamo. Ascoltiamo le parole del sindaco di Parghelia, Landro. Noi abbiamo deciso di intitolare una bella località ad Antonino Scopelliti, al magistrato di Cassazione ed è tutta l'area della Grazia e quindi lì diventerà viale magistrato o giudice Antonino Scopelliti. Siamo pronti per i primi dieci giorni di giugno e lì ripeteremo una bella e grande iniziativa. La cronaca, un uomo di 62 anni, Gino Scandale, è morto a Petilia Policastro in provincia di Crotone dopo che il trattore di cui era alla guida si è ribaltato. Scandale, quest'oggi stava percorrendo la strada che dalla campagna porta verso la sua abitazione quando il mezzo per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato facendolo sbalzare a terra. Non c'è stato nulla da fare, la vittima è morta sul colpo, inutili gli interventi del 118 e dei sanitari del caso però si stanno occupando i carabinieri di Petilia Policastro. I dati del Covid con la lettura dei numeri odierni legati alla diffusione del virus in Calabria. I contagi sono stazionari, 1194 in nuovi casi. Sale il tasso di positività al 20%, ieri era poco superiore, di poco superiore al 18%. Tre i decessi registrati, diminuisce la pressione sugli ospedali, dieci i pazienti in meno nei reparti e uno in meno nelle terapie intensive. E in chiusura, prima di salutarci, c'è spazio ancora per un ultimo servizio, andiamo alla Mezzia Terme, al Civico Trame, per una fetta di mela secca, il libro dell'autrice Begogna Farigna. Tra gli anni 40 e gli anni 80 in Svizzera, centinaia di bambini e ragazzi difficili, o solo poveri, furono strappati alle famiglie e mandati in istituto o a lavorare in aziende agricole, per una rieducazione, che era spesso abuso e sfruttamento. È in questo contesto che si snoda la storia di Lidia, la protagonista del romanzo Per una fetta di mela secca, scritto da Begogna Feigio Farigna, presentato al Civico Trame di La Mezzia Terme. Il contesto storico di Per una fetta di mela secca è quello delle misure coercitive a scopo assistenziale, questo è il nome, un po' uno simoro in sé, che era questa prassi che vigeva in Svizzera fino all'inizio degli anni 80, per cui spesso i figli di famiglie poveri, di genitori divorziati o ragazzi con problemi cosiddetti comportamentali, venivano strappati alle famiglie, dati o in custodia delle famiglie di contadini, che in alcuni casi poi hanno abusato di questo stato di custodia, o dati a degli istituti dove poi venivano cresciuti ed educati spesso in senso molto religioso in questi istituti. L'idea di scrivere questo romanzo mi è nata dopo aver visto un documentario che parlava di questi fatti, che ha fatto la televisione della Svizzera italiana nel 2015. Dopo aver saputo di questi fatti ho affrontato un periodo di ricerca più o meno di due anni, due anni e mezzo, intanto iniziavo a scrivere la storia che però non sapevo ancora bene che tipo di storia sarebbe stata, ed è poi la storia praticamente di una bambina dal momento in cui viene concepita, quindi neanche dalla nascita da un po' prima, fino alla vecchiaia, una bambina che effettivamente poi sarà vittima di queste misure coercitive fino al 2018, quando sarà una donna matura, libera e farà delle riflessioni su quello che ha vissuto. Con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione termina qui, grazie per la cortese, attenzione e buon proseguimento con i programmi dell'altro Corriere. Grazie a tutti.